Con il coach della Globo Sora, Fabio Soli, un successo meritato, una vittoria netta nel punteggio qui a Vibo Valencia in casa della Tonno Callico. Penso che più che il 3-0 bisogna guardare il punteggio dei vari set. La partita non è stata netta, il risultato non è stato netto perché ce la siamo dovuta giocare fino all'ultimo punto di ogni set ed è quello che mi aspettavo. Non mi aspettavo il 3-0, devo dire la verità, ma mi aspettavo una partita come è stata, molto combattuta. Avevo chiesto i miei di una grande capacità di sofferenza perché Vibo, lo torno a dire, lo ribadisco e ne sono sempre più convinto, la squadra secondo me è meglio attrezzata e più forte del campionato. Noi secondo me abbiamo giocato una pallavolo che ultimamente non eravamo riusciti ad esprimere, siamo stati ordinati, abbiamo saputo soffrire e alla fine il risultato c'è dato ragione. Anche se devo dire la verità, il 3-0 penso che sia un po' troppo, non sia veritiero. Il risultato penso che siano i set e i vantaggi che abbiamo giocato con Vibo, che è una grande squadra e penso che arriverà in fondo a giocarsi la promozione sicuramente. Battuta, side out, fase break, diciamo che con queste caratteristiche siete riusciti a mettere in difficoltà la Tonno Callipo, anche in quella parte di terzo set dove siete sempre stati dietro, poi con Irscia al servizio e con Salgada a muro siete riusciti a risorgere in quel set. Sì, queste sono partite che vanno giocate su tutti i fondamentali, queste sono partite dove devi fare un buon cambio palla se non sei molto alto sul muro di difesa, dove devi stare al massimo in tutto perché se no non vinci, non lotti contro queste grandi compagini. E poi come succede spesso sono le individualità, quello che ognuno riesce a tirar fuori e riesce a fare in più, a dare quello scatto finale che ti porta e ci ha portato fortunatamente, ma penso anche con bravura a vincere tutti i set in rimonta con grande sofferenza. Sono molto contento soprattutto per questo perché abbiamo saputo soffrire che è una capacità della quale parlo spesso con i miei giocatori e penso nel campionato di A2 sia fondamentale. Dopo sette giornate possiamo azzardare ad affermare che Sora, Vibbo e Ortona possano essere le tre squadre non solo più forti ma quelle che giocheranno fino alla fine per la promozione? Non lo so perché non ho la sfera magica, quello che è la nostra ambizione è cercare di fare bene, bene, bene domenica dopo domenica e poi solo alla fine dare un'occhiata alla classifica. Penso che abbiamo la qualità per poter far bene ogni domenica e di conseguenza per poter ambire ad essere là davanti alla fine, però da qua alla fine è lunghissimo, il campionato è molto 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 difficile, ha una grande dignità a differenza di quello che magari tanti dicono, è un campionato fatto di buoni giocatori, di buona pallavolo, quindi sono contento del risultato di stasera e guardiamo la partita di domenica prossima, questo è quello che facciamo domenica dopo domenica e quello che dobbiamo fare fino alla fine.